Intanto io esprimo nuovamente il cordoglio alle famiglie delle vittime e certo il tema della sicurezza del lavoro non può essere esaurito in una battuta ma è altrettanto certo che le leggi vanno applicate nella maniera più puntuale possibile e comunque con la piena condivisione da parte di tutte le parti sociali e le forze attive dalla cultura e le istituzioni. Certo il ripetersi di questi eventi, di questi accadimenti funesti e tragici induce comunque noi tutti a una riflessione soprattutto in termini di prevenzione per quanto abbiamo noi oggi a disposizione per quanto attiene alla parte burocratica e amministrativa le procedure di rito e prevista alla legge sembrano essere state eseguite alla lettera per cui aspettiamo ancora gli accertamenti che oggi faranno i vigili del fuoco e tutti i soggetti preposti per poter magari trarre delle conclusioni e soprattutto provare a indicare una strada percorribile e benefica per noi tutti.